Sai quante squadre posso raccontarti? La Propatria è una che è una che vince il campionato, mangiano lì alla maniera, gli dà il panino, si allenano in una maniera, non hanno lo spogliatoio, non hanno né caldo né freddo, un professionista, non credo che il Bologna si sia trovato a disagio, che non si poteva allenare, non avrà corso lo stipendio un paio di mesi, tu hai detto una cosa giusta prima, ha una squadra che non è seconda né al Palermo né alla Lazio, Bologna ha degli ottimi giocatori, Longo ha lavorato bene, ha il più bel portiere d'Italia, ha una punta che fa sempre gol, ha degli ottimi giocatori, quindi il campionato penso che se si trovava in condizioni inferiori c'era da dire hanno lavorato male gli allenatori, ma l'anno scorso Colombo ha salvato il Bologna che l'aveva dei cadavere. Ha ragione Gastone, ragazzi, ma qui in squadra ci sono 4-5 nazionali, è dell'Uruguay, c'è Mudingai, il capocannoniere della Serie A. Dario, infatti vuol dire che la società ha scelto i giocatori giusti, ha lavorato bene, non è facile prendere i nazionali. Massimo, mi sono d'accordo con te, il Bologna ha dei grandi giocatori, è l'allenatore per me che non è l'altezza. È l'allenatore che secondo me è mediocre. Non sta giocando un ottimo campionato, mi sembra. Ma è Zucadù! Lui deve essere in Europa già da un po', lascia perdere, perché i due mesi non hanno preso il stipendio. E Platinini che ha costo. Platinini non ce l'ha, abbiamo parlato anche della Pro Patria, ma non sei riuscito a dire. Ma la Pro Patria è perché i poveretti scianguone. No, perché è il centocinquantesimo anniversario. Della Pro Patria. Sì, della Patria. Cosa vuoi sapere? Della Patria. Di Platinini. Pro Patria. Sì, l'accendo di Gualtiero a Platinini. Platinini ha corso molto per me, è per quello che è stanco. Non penso che cosa devo dire di Platinini. No! Non so perché parla la storia. Adesso che non corre più sei ingrassato. Sei ingrassato, no. È un bel po'. Allora, Enrico. Io ricordo una battuta di Platinini al contrario che disse io non ho bisogno di correre, per me corre Massimo Bonini. Sì, è vero. Ed era vero. Massimo, quanti chilometri hai fatto? Ero pagato a chilometri per quello che ero. « È vero.» «Rudupo non» « Ropo non» « Ropo non» «Ri ria.